Tutti ai posti di combattimento Catturare l'area A Catturare l'area B Versagli nemici avvistati Catturare l'area Mira precisa attivata La nostra squadra ha catturato l'area La squadra nemica ha catturato l'area Siamo sotto attacco Bersagli corporale Abbiamo colpito il nemico Bersagli colpito Gli attivi Siamo sotto attacco Oh Ok A Bersaglio agganciato! La nostra squadra ha catturato l'area! Nemico pesantemente danneggiato! La squadra nemica ha catturato l'area! Mira precisa attivare! Abbiamo distrutto una nave nemica! La nostra squadra ha catturato l'area! abbiamo colpito il nemico bersaglio colpito bel colpo ottimo lavoro abbiamo colpito il nemico seluri ci hanno colpito bersaglio colpito ottimo lavoro bel colpo ottimo lavoro andiamo colpito il nemico andate va a fuoco la nostra squadra è stata per vincere purtroppo grazie a tutti Grazie a tutti.